www.feyyaz.tv 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 Eccolo il peschericio limico affondato tragicamente nel canale di Sicilia il 18 aprile 2015 con aborto a 700 migranti che tentavano di raggiungere il nostro paese dall'Africa. Le istituzioni europee garantiscono l'identificazione. Secondo me possono romperti le barri, io ti dico che è facilmente attaccabile. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS